Le tre regole di base fondamentali su cui si fonda l'analisi tecnica. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video del nostro corso di formazione sull'analisi tecnica e sulle basi dell'analisi tecnica per principianti. Oggi affrontiamo quelle che sono le regole di base su cui si fonda l'analisi tecnica e lo facciamo per capire una cosa, capire quello che significa fare analisi tecnica, come dobbiamo considerare questo tipo di analisi e a cosa serve. Iniziamo subito però, non ci perdiamo in chiacchiere ragazzi perché voglio parlarvi molto più approfonditamente di questi punti ma prima di andare ad analizzarli in maniera approfondita chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi e lasciatemi un super pollice in su per questi video di informazione che resteranno sul mio canale per tanto tanto tempo e soprattutto come sempre fatemi sapere cosa ne pensate e se ci sono dei suggerimenti su quali temi andare ad affrontare. Prima regola fondamentale dell'analisi tecnica, il prezzo sconta tutto. E già su questo lo scontro è molto vario sulla teoria e tra gli analisti tecnici perché moltissimi pensano che i prezzi non scontino tutto quello che esiste relativamente a uno strumento finanziario ma che i prezzi siano una oscillazione costante e continua in preda ad emotività eccessive. Partendo dalla teoria però, cosa dice questa teoria? Il prezzo sconta tutto dice che all'interno dell'andamento del prezzo di uno strumento finanziario quindi del grafico esistono già tutte le informazioni presenti nel mondo relative a quello strumento quindi il prezzo sconta tutte le news, il prezzo sconta tutti i fattori macroeconomici il prezzo sconta l'andamento dell'economia e il prezzo sconta anche l'emotività del mercato e l'emotività degli stakeholder del mercato. I molti invece pensano che il prezzo non sconti ad esempio le news e pensano che leggendo ad esempio una news su uno strumento finanziario questo potrebbe poi nell'arco delle prossime ore, dei prossimi giorni avere un'app o un danno quindi un pump e un dump. Questa cosa dei prezzi che scontano tutto è vera, potremmo dire che è vera nel medio periodo ma non è vera nel breve periodo perché nel breve periodo i mercati si devono adattare a quello che magari è un cambiamento, uno shock di mercato o una news improvvisa che non era attesa. Facciamo riferimento alla pandemia che abbiamo vissuto relativamente al covid quello che è successo sui mercati è che un evento improvviso, un evento sconosciuto e si è manifestato e ha modificato tutte quelle che erano le aspettative degli operatori di mercato questa cosa ha provocato uno shock e lo shock non era all'interno dei prezzi cioè quella notizia, quell'evento non era scontata all'interno dei prezzi. In questo caso cos'è avvenuto sui mercati finanziari? È avvenuto immediatamente un crollo veloce, ne parleremo tra poco che ha portato i prezzi ad un nuovo livello il nuovo livello prevedeva anche la famosa pandemia quindi i prezzi scontano tutto ma nel medio periodo o nel breve periodo dopo un po' dicevo così, non brevissimo perché alcuni eventi, alcuni shock non possono essere previsti dal mercato e siccome questa cosa esiste non possiamo dare per scontato che i prezzi inglobino tutte le informazioni lo faranno, lo faranno certamente ma nel medio periodo questo è il modo giusto di considerare questa regola dalla regola numero uno e da questa considerazione ne viene fuori la regola numero due i prezzi si muovono secondo un trend trend is your friend ragazzi ok trend is your friend è la mia maglietta preferita perché i prezzi si muovono secondo un trend? perché quando i mercati assorbono qualche evento che viene dall'esterno ad esempio immaginiamo un evento di natura macroeconomica come quello della pandemia oppure immaginiamo un evento di una news su un mercato tecnologico come ad esempio il bitcoin e le criptovalute dove una news come l'adoption magari della bitcoin come valuta di base di uno stato importante potrebbe portare ad uno shock di mercato quando si verifica questo shock di mercato il prezzo di uno strumento finanziario segue un trend e quindi si muove da un punto A a un punto B andando a favore di un trend determinato da eventi esogeni si dice così cioè da eventi che sono parte del sistema economico o di evoluzioni del mondo come ad esempio quelle tecnologiche ma anche la famosa Apple che lancia magari un iPhone diverso uno strumento telefonico che potrebbe essere estremamente innovativo potrebbe incrementare il suo prezzo di quotazione perché magari quella innovazione tecnologica non era attesa dal mercato e le vendite dell'iPhone in questione saranno molto elevate facendo fare tanti profitti alla società e in quel caso allora gli operatori di mercato faranno fare un trend all'azione di Apple il profitto tra l'altro ovviamente esiste solo perché esistono questi trend ragazzi quindi i mercati si spostano da un punto A a un punto B ma anche al contrario quindi al ribasso proprio perché esiste un movimento all'interno dei mercati finanziari che fa sì che il prezzo di equilibrio venga sempre ricalcolato cioè si sposti e produca un trend qual è il compito quindi dell'analista tecnico? il compito dell'analista tecnico è quello di individuare questi trend cioè individuare il prima possibile con un certo margine di anticipo rispetto al mercato dove dovrebbe andare uno strumento finanziario perché è avvenuto un determinato evento facciamo l'ipotesi del famoso Covid chi ha analizzato i dati per esempio sulla espansione del virus si stava rendendo conto che probabilmente sarebbe arrivato anche negli Stati Uniti avrebbe causato un'epidemia globale, il lockdown e quindi un crash economico in quel caso ha iniziato magari ad assumere posizioni allo scoperto sui mercati americani cioè ha venduto le aziende e le azioni facendo un investimento short selling short selling significa vendere al ribasso, scommettere che i mercati vadano giù in quel caso ha anticipato il trend di mercato perché poi il trend di mercato lo abbiamo visto andare down l'analista tecnico che è riuscito a sistemare quei dati, quelle previsioni nel modo giusto quindi analizzare i movimenti di prezzo che stavano indicando che il mercato si era indebolito e stava andando verso un trend ribassista analizzando tutti questi punti si è posizionato a favore del trend che stava per verificarsi e in quel caso l'analista riesce a prendere un grande profitto quindi questo è il compito dell'analista finanziario l'analista finanziario deve quindi prevedere i movimenti di prezzo e il trend la direzione del trend nel modo più veloce possibile anticipando gli altri da qui esce fuori anche il famoso problema legato all'insider trading si chiama così, cioè chi conosce delle informazioni anticipatamente rispetto agli altri nel mercato ha un vantaggio competitivo enorme ragazzi immaginate che qualcuno sappia se la Federal Reserve sale i tassi o non li sale chi lo sa prima ha un grande vantaggio ad esempio relativo agli shock di mercato perché potrebbe posizionarsi sul mercato, far uscire la news, aspettare la direzione più probabile dovuta a quella news e poi chiudere le posizioni questo vi apre un mondo anche a una serie di problemi legati a questa cosa cioè alla fuga di notizie, all'insider trading che comunque ragazzi è un reato in teoria poi bisogna vedere quanti sono stati effettivamente accusati di questa cosa ma qui chiudiamo la parentesi terzo e ultimo punto della regola è la storia si ripete e io aggiungo di mio proprio citazione Mauro Caimi ma non troppo sì perché la storia si ripete sui mercati finanziari significa che i mercati hanno un atteggiamento ripetitivo se i mercati hanno un atteggiamento ripetitivo l'analista finanziario e l'analisi tecnica può prevedere un andamento di trend quindi può prevedere quando entrare su un mercato a favore di un trend è questa la base di tutta la struttura dell'analisi tecnica questa regola ragazzi ci dice che l'analisi tecnica ha un'utilità prevedere un andamento di trend perché la storia si ripete ma la storia si ripete non troppo e non del tutto in maniera uguale questo è una cosa che vi aggiungo io a questa regola di DAO quello che si ripete non è la storia cioè non sono i movimenti dei prezzi che si ripetono altrimenti un prezzo oscillerebbero sempre nello stesso modo quelli che si ripetono sono i fattori economici, i fattori umani soprattutto il lato emotivo in un mercato finanziario si ripetono i cicli economici l'economia segue determinati cicli ma anche a livello emotivo gli investitori seguono determinati cicli queste sono cose che si ripetono pressoché in maniera identica ai periodi precedenti con alcune variazioni dovute al fatto che il genere umano di solito evolve ragazzi non è mai lo stesso quindi non è uguale a quello del 1800 questo è impensabile l'analista finanziario come deve considerare questa terza regola di base dell'analisi tecnica la deve considerare come un motto ma non in maniera con i paraocchi quindi non in maniera ottusa perché dobbiamo guardare al passato per capire cosa succederà ma non dobbiamo pensare che quel passato si ripeterà allo stesso modo perché se pensiamo questo facciamo un grande errore mentre se noi analizziamo il movimento passato andando a inserire anche la nostra opinione il nostro punto di vista un'analisi magari dettata al presente quindi in base al periodo specifico a quel punto possiamo renderci conto di più di quelli che potrebbero essere i famosi movimenti di mercato perché alla fine l'obiettivo dell'analista è sempre prevedere il trend in anticipo quindi l'analisi tecnica non serve a prevedere il futuro serve a fare questi ragionamenti dovete utilizzare queste tre regole quando vi approcciate un grafico perché ragazzi iniziare nel modo giusto iniziare capendo effettivamente quello che è lo scopo di un determinato compito vi porta avanti anni luce e vi fa avere grandi risultati d'altronde come si dice chi ben comincia è a metà nell'opera bene vi ho dato tutte queste informazioni relativamente alle regole di base dell'analisi tecnica adesso tocca a voi fatemi sapere cosa ne pensate voi di queste regole quali avete riscontrato essere le regole migliori e quali secondo voi sono soggette ad opinioni fatemelo sapere nei commenti noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti